ciao a tutti oggi vi parlo della tecnologia full electric di hyundai quando parliamo di full electric parliamo di auto a batteria alimentate 100 per cento a energia elettrica l'auto si ricarica con la rete elettrica o grazie alle colonnine di ricarica quanto ci vuole con la ricarica rapida della cona electric in 54 minuti 6 all 80 per cento se siete sorpresi aspettate di guidarla l'auto non produce emissioni o rumore niente la hyundai cona electric è il primo subcompatto completamente elettrico 484 chilometri che arrivano a 660 in città dove freni o deccelleri più spesso momenti in cui la batteria si ricarica la batteria non va cambiata non è una radiolina e hai una garanzia di otto anni e 160 mila chilometri la cona electric si può controllare da remoto con un app grazie alla quale puoi programmare la ricarica e la climatizzazione dell'abitacolo con la formula hyundai by mobility una cona electric costa come un diesel semplicissimo grazie a tutti